bene amici delle salute quard video questo girando in full hd con il one plus tu vediamo come funziona la stabilizzazione ottica pan veloce devo dire che non sono affatto male forse un pochino lenta la messa a fuoco ma devo dire che niente di particolare vedete che ci mette quel secondino in più a mettere a fuoco però va bene vuol dire che non non è affatto male proviamo uno zoom andiamo a zoomare e facciamo un tap focus e torniamo indietro magari facciamo un po di camminata per vedere anche come funziona la stabilizzazione ottica qui siamo a milano vicino via pitteri vedete che se vado un po' veloce fa fatica un po invece vado piano avete passata la macchina ha fatto un attimo di defiance per quanto riguarda il focus va bene ciao ciao